Come tutte le notti siamo sempre presenti sul territorio, due squadre in centrale d'Arezzo, una a Montevarchi, una a Cortona, una a Bibbiena, i Permanenti. Una notte di lavoro anche per Capodanno, per le forze dell'ordine, quelle di soccorso impegnati in città ma anche su tutto il territorio provinciale aretino. Quelli che si scordano la chiave in casa e quindi dobbiamo aprire le porte, incendi cassonetto perché la gente distratta getta la cenere ancora calda nel cassonetto, chiusure acqua perché la gente si scorda la cannella aperta, di solito diciamo che sono questi, non parliamo d'altro. Anche alla luce dei fatti, bene o male noi diciamo una sicurezza in più per la gente, li vedi che sono più tranquilli, che vedono i pompieri, sono più tranquilli, ecco tutto qui. Chi fa il nostro lavoro sa benissimo che possiamo lavorare e ci capita spesso di lavorare nei giorni di festa, quindi per noi è un giorno lavorativo come tanti altri dal punto di vista personale, dal punto di vista dell'allerta chiaramente visto la situazione a livello internazionale abbiamo un occhio un attimino più vigile su quelli che possono essere alcuni segnali che arrivano al momento di richiesta degli interventi. L'esperienza ci porta a capire e a comprendere che l'evento non è compatibile magari con la dinamica descritta e quindi queste incongruenze portano a far scattare un campanello di allarme a dire occhio, attenzione all'equipaggio che sta andando, ci potrebbe essere questo tipo di rischio, fateci sapere, dateci notizie appena arrivate. Ore di intenso lavoro anche per i carabinieri del comando provinciale di Arezzo. In occasione del capodanno sono stati infatti intensificati i servizi. Massima attenzione è rivolta alla prevenzione dei furti in appartamento in un momento in cui le case vengono lasciate spesso per raggiungere luoghi di festeggiamenti. Controlli anche su strada da parte dei militari con l'ausilio di strumenti come l'etilometro per verificare il tasso alcolemico di chi si mette alla guida in queste ore. Controlli specifici infine anche per l'acquisto e il successivo utilizzo di fuochi d'artificio. È importante fare questa raccomandazione, attenti all'utilizzo, farlo solo in zone sicure e soprattutto non raccogliere mai botti in esplosio comunque che hanno mancato l'accensione. Abbiamo rinforzato i servizi, saremo presenti in città in modo massiccio e poi anche in tutta la provincia grazie anche alla sinergia con tutte le altre forze di polizia. Abbiamo chiesto anche rinforzi per poter garantire che gli eventi che si svolgeranno questa sera e questa notte nel massimo della sicurezza ma soprattutto della serenità che è quello che tutti ci aspettiamo. E quindi verranno effettuati i servizi sia dal primo pomeriggio fino a seguire la sera per rinforzarli poi e averli in modo più consistente nella nottata. Ci auguriamo davvero porti pace e serenità, anzi se mi consente, nell'occasione mi piace e voglio a nome del questore e di tutta la polizia di Stato augurare davvero alla comunità retina e all'intera comunità di tutta la provincia. Davvero che il nuovo anno con noi sempre vicini, con le altre forze dell'ordine, ma la polizia di Stato sarà come lo è sempre stata vicino a tutti, augurando davvero pace e serenità a tutto il territorio.